buonasera appena fatti allora stasera sto come le bestie non so neanche se mi sono beccata un qualche virus intestinale o qualcosa ma sto davvero come le bestie ma devo mettere in carico sti video perché sennò sto troppo indietro e quindi vado col video le tre basi di cui si sente sempre parlare per quanto riguarda talismani amuleti pietre infatti questo video andrà a finire nella playlist amuleti talismani comunque le di nastrino le di sadako le di ghost e le di chizune salutano dunque quando si compra si acquista ci viene regalato un talismano o un amuleto la prima in assoluto cosa da fare è quella della pulizia energetica per mille motivi perché quel talismano è stato toccato da altre persone è stato toccato dalla natura è stato toccato da mille mila cose e può avere assorbito vibrazioni richieste idee sofferenze e quant'altro quindi va sempre comunque purificato a meno che la persona in questione che ve l'ha creato non vi dica non vi sottolinei che ve lo invia già purificato io per esempio quando invio le cose quando faccio qualche talismano qualcosa succede a volte l'invio sempre già purificati però nel corso dell'utilizzo nel corso dell'esistenza della vita del protrarsi del tempo vanno comunque ripurificati come si purifica un talismano ci sono ottantordici mila modi i più comuni sono esempio io lo sapete uso imala come talismani protettori c'è un po di casino mannaia alla parrucca che non è una parrucca sono i miei capelli ma li ho lasciati sciolti per farli vedere e mi impicciano dicevo io uso imala ma si può usare un ciondolo un bracciale un porta chiavi una pietra in tasca qualsiasi cosa non uso solo imala io ho una caterba di amuleti che utilizzo a seconda dei casi e di quello che devo fare esempio non so dove ho la mia scatolina con quelli che uso più spesso eccoli questa ovviamente con dei gatti io sono gattara inside alcuni dei miei tanto per fare l'esempio questa è una collana di granato tutta interamente di granato antica tra l'altro che io utilizzo diciamo ancora la chiusura quella rotellina di che io utilizzo spesso quando faccio i collegamenti con alcune entità perché granato collega l'entità anche seppure io porto anche l'anello col granato sempre altri miei amuleti per esempio la mia collana con la farfalla testa di morto la sphinx che è un'altra di collegamento un psicopompo questa la utilizzo per lo più invece quando vado in astrale nell'oltre per determinate questioni per cui devo andare oppure quando faccio cerchi in quali utilizzo l'anc di legno e quindi uso questo ce ne sono ne ho tantissimi a seconda dei casi li mettono le bustine perché così non mi si aggrovigliano qui ho la mia testa di corvo che ha la stessa funzione di della farfalla sphinx ma è anche un regalo di una cara amica di fiammetta e quindi la tengo sempre e vicino c'è invece il mio sigillo a mamam brigitte quando pratico cose legate ai loa e legate al voodoo sempre cose per me o per le entità e in ogni caso io non faccio ritualistica ogni tanto lo sottolineo fondo evitare richieste che poi non riesco a portare avanti io non faccio ritualistica per i vivi quindi questo è un corvo che invece mi ha regalato giovanna un'altra mia carissima amica e lo tengo proprio come porta fortuna questo è il mio suggeritore quando bisogno di meditare su certe le certe cose io la scala questa è una cicala di giada nera che utilizzo un altro che uso tantissimo come come porta fortuna è il regalo di un amico in crisoprasio antico peraltro punto di cultura asiatica e a volte nelle meditazioni indosso questa già da crisoprasio regalo di giovanni e poi ne ho altri ora non sto a tirare fuori tutti anche perché sono un macello di cose ma tipo esempio qui ho le mie giade fior di lotto ho la mia collana con la calipstea domenica c'era una marea e mezza qui ho il mio scarabeo antico egizio insieme a un altro chiamata del mio corvo che il corvo è lo sapete il mio totem e qua ho il mio scarabeo in steatite con la montatura in argento 800 perché è antico quindi non il 925 che va di moda negli ultimi anni e via dicendo questi sono tra quelli che utilizzo di più ora aggiungo anche questi due tiki santo domingo che mi sono stati portati dall'amica ce n'ho un altro ma quello lo tengo sempre lì perché lo utilizzo spesso e quindi lo tengo appeso insieme e lì appeso sulla farfalla insieme al sole di ambra e qua ho altri due tiki sempre regalo di questa amica che quando va a santo domingo me li porta i tiki sono amuletti della felicità e che anzi già che sono qui ora me li metto nella mia scatolina di quelli che metto sempre gli altri ne ho 500 miliardi ma li tengo invece in altri posti visto che non li indosso spesso comunque come avete visto anche semplicemente nei miei per quello con lo teatro fuori i materiali sono i più disperati disparati non sono disperati sono disparati dall'argento alle pietre al legno all'ambra ha le piante a certe erbe alcuni amuletti per esempio che crea silvia di menna nella sua bottega di oridice che sono bellissimi anche quelli soprattutto gli anelli con la mandragora per esempio che crea lei e appunto sono con le erbe alcuni hanno dell'ottone alcuni hanno del ferro alcuni hanno del bronzo e via dicendo quindi la purificazione la pulizia di questi amuletti non la si può fare con la stessa procedura con lo stesso modus operandi perché perché ad esempio le pietre come la tormalina l'ossidiana l'occhio di tigre l'occhio di gatto l'occhio di bue l'occhio di falco si possono tutti tranquillamente scaricare purificare sotto al getto dell'acqua fredda normalmente come si fa fisicamente a farci scorrere l'acqua o ci si arma di tanta pazienza ci si mette lì con l'oggettino in mano ora c'è una collana di un'amica che avevo lì perché la stavo mettendo oggi o si prende l'oggetto e tac si mette la zampetta sotto al rubinetto con l'acqua fredda e si lascia scorrere tenendola ma soprattutto l'inverno rischiate un bel raffreddore la guinness dei primati e non è cosa buona e giusta oppure prendete aprite il rubinetto prendete un contenitore di vetro o di ceramica mai plastica ci tengo a sottolinearlo e lasciate l'acqua scorrere in quel recipiente dove avete messo a bagno queste pietre però appunto ci sono dei talismani ci sono degli amuleti che non possono essere messi a bagno per ovvietà tipo quelli di legno perché il legno assorbe si rovinano o quelli con le piante secche che ben appunto essendo piante secche ne fate un pastone quelli in ferro si arrugginiscono e via dicendo quindi per la pulizia del talismano a volte può essere utile l'acqua corrente a volte può essere utile il fumo di palo santo per esempio si accende un palo santo ora mi sono rimasti sui miei pezzettini ma tanto per farvi capire si accende il palo santo si fa fumigare quindi si fa uscire il fumo e con quel fumo andremo andremo a passare questo fumo sull'oggetto in questione quindi l'oggetto sopra e il fumo in tutte le sue parti mi fumigo io questo va bene praticamente per tutti perché non rovina nulla a prescindere a meno che non abbiate un amuleto di cera in quel caso potrebbe rischiare di ammollarsi o di sciogliersi nel caso dell'ammuleto di cera è sicuramente meglio l'acqua fredda c'è chi suggerisce di lasciarlo 7 ore 15 ore 23 ore 72 ore immerso nel sale perché il sale purifica ecco io lo sconsiglio nella maniera più assoluta qualsiasi tipo di talismano di qualsiasi materiale perché perché il sale corrode e quindi a prescindere rovina c'è sta poca fa poi ci sono delle accortezze per quanto invece alcuni tipi di pietre che non possono prendere acqua tra queste pietre mi sono scritta quelle più utilizzate in generale normalmente in modo da fare una breve lista senza dimenticarmi pezzi l'ambra perché l'ambra è una resina e quindi si rovina a contatto con l'acqua assorbe come il legno l'azzurrite perché si sbricciola si sfalda i boji che sono quelle pietre femmine maschio per le meditazioni la calcite perché non c'è la parola stessa è calcite quindi è a base di calcio che in acqua si scioglie le matite perché ha al suo interno del ferro e quindi arrugginisce la fluorite la cunzite i lapislazzuli sempre per la questione della friabilità la lepidolite che è bellissima è quella viola opaca la magnetite la malachite perché perde la solucentezza l'opale sembrerà una cavolata ma non va messo in acqua la paesina la pietra di luna si rovina sotto l'acqua la pietra del sole e anche il turchese perché perde di lucidità un po come anche tutti i diaspori perdono la loro lucidatura quindi diventano opachi e bruttini non si rovinano ma diventano opachi poi ci sono delle piante che possono fare lo stesso effetto di fumigazione come appunto il palo santo e o la salvia bianca e che sono invece maggiormente utilizzate in europa rispetto invece che a sud america o all'asia eccetera perché nonostante la salvia bianca il palo santo siano largamente utilizzati oggi come oggi per le purificazioni c'è da dire che sono erbe sudamericane qui un tempo non c'erano ma l'esoterismo un tempo purificava comunque i suoi oggetti con cosa li purificava con dei miscugli di rosmarino secco salvia semplice secca e insieme foglie ora metti di ulivo secchi che poi si facevano bruciare e si fumigava sia gli ambienti e sia i talismani talismani amuleti oggetti in generale comunque le pulizie energetiche quindi la pulizia del talismano stesso dell'oggetto stesso normalmente si fa in questi modi una volta che l'amuleto o il talismano è stato purificato va caricato perché quando ve lo purificate scaricate tutte le energie che ha sopra e quindi devono essere ricaricate ricaricare un talismano anche qui è semplice ci sono alcuni che ve li fanno ve li creano ve li purificano e ve li mandano anche già carichi una prima volta ma poi a lungo andare vanno comunque ricaricati di nuovo la base di solito è la luce del sole o la luce della luna a seconda che il talismano sia di materiale lunare o solare e qui ve lo dovete studiare perché non è che uno può mettersi a elencare tutti i materiali esistenti sulla faccia della terra quindi in generale basta cercare il materiale su internet siamo nel 2024 potete cercarlo su internet chiedendo proprio fisicamente a google che ne so l'ametista una pietra lunare una pietra solare il legno di noce è un materiale solare un materiale lunare e via dicendo prendete per buono che se nelle pietre c'è tanta diversità nel legno normalmente è sempre meglio utilizzare la luce della luna perché il sole tende a seccarlo e quindi a farlo spaccare ok l'abbiamo caricato e lo abbiamo pulito spesso avreste però avrete però letto soprattutto per il web quindi dico letto dell'attivazione la fantomatica attivazione ma me lo mandi già attivato perché la gente sa che vanno attivati ma non ha la più pallida idea di come si attivino allora modi per attivare un tarismano un amuleto ce ne sono mille mila a cosa serve attivarlo serve a dargli l'importanza il valore la richiesta che vogliamo su quell'amuleto quindi serve a farlo servire a quello scopo quando si parla di pietra di solito si prendono anche delle pietre più preposte proprio a quello scopo per la salute con le verdi per la protezione con le nere o quelle trasparenti per la benevolenza l'affetto e l'amore quelle rosa e via dicendo però l'attivazione è necessaria ecco perché tantissimi di voi quando compro un amuleto la prima cosa che chiedono a quello che ha creato l'amuleto è ma me lo mandi già attivato patanici sì normalmente se vuoi un esoterista te lo manda già attivato ma potrebbe succedere che quella muleto ti serva per un determinato scopo in questo momento poi magari tra tre anni cinque anni dieci anni ti serva per un altro scopo quindi lo scarichi lo pulisci lo ricarichi di energia nuova e poi lo devi riattivare con un'altra richiesta allora devi essere capace ad attivarlo in questo video descrivo la cosa l'attivazione più facile che va bene per tutti dopo le 21 di sera dopo che vi siete stra purificati anche voi e avete purificato l'ambiente dove dovete fare l'attivazione che sia un piatto che sia un altare che sia un vassoio che sia in terra o dove lo volete fare prendete tre candele tre candele vere non tea light non candele profumate nei vittorini non finisci la volta che trovi una cosa nuova tu la porti a spasso ma basta ce l'ho con ciccia tanto per cambiare termoto piccolo delinquente gattino mezzo di tetesco ecco e mi ha fatto ammazzare in terra pure lo zolfo cioè mi ha fracassato lo zolfo intera lasciata lo zolfo ecco e mi ha pure spaccato un cannello di zolfo mi strappo le orecchie mi ci faccio un portachiave un talismano ah sei scappato eh quindi non ti serve il cannello di zolfo giusto ah quindi non ti serve quello spaccato no ha polverizzati ha fatti cascare grazie amore ho fatto te gentilissimo allora se non le dispiace questo diventa mio grazie ma hai battezzato il pavimento lo so mi sono anche battezzato le mani non me ne ero accorto me ne sono accorta che non te ne eri accorto dicevo tre candele del colore di quell'attivazione quindi come per il discorso delle pietre prima e di altre situazioni le candele verdi per esempio sono proposte alla salute le candele gialle sono proposte ai soldi le candele nere sono proposte alla pulizia energetica le candele bianche possono andare bene anche per le entità per i defunti per la nostra stessa anima per le nostre aperture ma specialmente le candele sono utili per fare il tè si è fatto una sorta di cucina trasportabile a candele o funziona il tè lo fa pure buono assolutamente sto pure un pochetto allungato con acqua perché sennò era troppo caldo grazie amore mio ora le riporto di sotto ma sempre ci ricordiamo di portarle giù mi tiri su quello che resta dei miei poveri zolfi non rimane niente e dove l'ha finito gli altri ah te li si è presi tutti e prendi pure la scatola allora clettina fai in tasca e sparchita la felpa ciao zolfi ciao 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 i bicchieri dicevo scusate la pausa te e danno di ciccia le candele 3 messe a triangolo quindi due davanti e una in fondo del colore preposto al tipo di attivazione quindi al tipo di richiesta che dovrà portare a termine quel talismano o quell'amuleto prendete il talismano e l'amuleto lo mettete nel centro del triangolo il triangolo no non lo avevo considerato facciamo anche il piccolo cordero antoniano ormai se tu tiri fuori delle canzoni che conosco non è colpa mia comunque in mezzo al triangolo mettete l'amuleto il talismano accendete in senso anti orario tutto non era calcolato perché c'era un triangolo le tre candele partendo da quella che vi pare perché tanto non c'è un ordine preciso in senso anti orario le accendete tutte e tre e le lasciate consumare tutte con l'amuleto o il talismano all'interno del triangolo quando si saranno consumate del tutto e saranno spente prendete l'amuleto se sei un po' sporcato di cera cioè data una pulita con uno stuzzicadenti che non succede niente e l'amuleto è pronto purificato caricato e infine anche attivato e questa ci stava perché vedo sempre più spesso gente che è terrorizzata dall'idea di dover attivare il proprio aggeggio esoterico quindi niente una delle delle attivazioni più semplici in assoluto è questa niente di che rien ne va più detto questo vi saluto ora mi vado anche a misurare la febbre perché sto bambino adesso sono un po' più freschetta di prima forse è un po' scelta può essere sai che il tè ai frutti rossi un po' abbia aiutato con candele aromatizzate alla lavanda ecco perché era buono sì perché abbiamo scoperto un tè un miele alla lavanda che è qualcosa di fenomenale l'abbiamo presa l'Eurospino e la Lidl e boh mi ricordo fatto sta che l'ho pure cotto su delle candele di lavanda ecco il fornelletto a candela a tea light tanto io e tea light a parte per bruciare qualche incenso non le uso di sicuro in esoterismo e quindi le usa lui per cucinarci il tè detto questo saluto Lady Ghost Lady Sada con le di nastrino Lady Kitsune non le vedete vedete solo le di nastrino ma fa lo stesso saluta non ve lo posso garantire il ciccia si è momentaneamente acquiegato sulla spalliera del letto e non si muove sembra una pagnotta ma lui è una pagnotta sembra un panino di quelli larghi detto questo ciao anche il nano fa ciao i nanetti mi fanno un metro e settanta mi mangia in testa e si pulisce pure con i capelli amo di tovaglia però vabbè ciao 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 ciao